10 minuti di addome, poi un breve riscaldamento total body, poi lavoriamo braccia e spalle con i pesi, gambe e glutei con l'elastico. Buon allenamento! Iniziamo con una bella sessione sull'addome. Vai! Addominali in tre tempi. Schiena ben appoggiata a terra. Solleva le spalle, contrai l'addome e spingi. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Ora ripetiamo l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, via! Ancora 30 secondi di addominali in tre tempi. Scandisci bene i tre tempi di salita. Mento leggermente verso il petto. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, riposa. Ora passiamo al crunch con mano ai talloni. 3, 2, 1, schiena ben appoggiata e vai con il crunch con mano ai talloni. Cerca di mantenere il collo rilassato. Non andare veloce. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Ora ripetiamo l'esercizio. 3, 2, 1, via! Mane ai talloni. 30 secondi. Fuori l'aria e su fino a toccare i talloni con le mani. Corpo e gambe salgono contemporaneamente. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Preparati per gli addominali con mano al piede opposto. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Ora mano al piede opposto. Contrai l'addome, sali e porta la mano al piede opposto. Scendi completamente prima di cambiare lato. Respira durante il movimento. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Ora torniamo agli addominali in tre tempi. 3, 2, 1, schiena a terra e via! Addominali in tre tempi. Ora sono 40 secondi. Sollevi le spalle, contrai l'addome e spingi. Usa sempre lo stesso ritmo e non andare veloce. L'importante è fare bene l'esercizio. Ancora 15 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Preparati per gli addominali con mani unite verso l'interno coscia. 3, 2, 1, ok, riparti. Ora mani unite verso l'interno coscia. Prenditi il tempo che ti serve tra una salita e l'altra. Ancora 15 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Ora passiamo agli ultimi addominali in tre tempi. 3, 2, 1, vai! Sono 50 secondi. Non irrigidire il collo. Concentra lo sforzo sull'addome. Se trovi difficoltà, rallenta. Altri 20 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. 10 secondi. Dai! 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Ora ultimo esercizio, poi facciamo una breve pausa. 3, 2, 1, vai! Sali e porta una mano a piede opposto. Se non arrivi, fermati prima. Collo rilassato. Ultimi 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, ok, recupera. Facciamo una breve pausa, poi passiamo al lavoro sui fianchi. 5, 4, 3, 2, 1, iniziamo. Ora su un fianco. Gambi unite, gomito a terra e sali. Contrai bene l'addome. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Ripetiamo l'esercizio dall'altro lato. 3, 2, 1, via! Ora sali sull'altro fianco. Movimento lento e contrai bene l'addome quando sali. Non andare veloce. 5, 4, 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, recupera. 3, 2, 1, ok, siediti e appoggia le mani dietro. Gambe su a 45 gradi e avvicina ginocchia e petto. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Abbiamo quasi finito la sessione a terra. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. 3, 2, 1, ora addominali con gomito al ginocchio. Tieni il ritmo e contrai l'addome. Fuori l'aria quando sali. ultimi 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Ultimo esercizio e torniamo in piedi. 3, 2, 1, via! Crunch con mano e talloni. Dai! Schiena ben appoggiata a terra. Mantieni il collo rilassato e non sollevare troppo il bacino. 10 secondi. Dai, ci siamo! 5, 4, 3, 2, 1, pausa o ritogli il tappetino. Faremo un buon lavoro total body, poi passeremo ai pesi. 5, 4, 3, 2, 1, step touch. Iniziamo a riscaldare le gambe. Prendi subito un buon ritmo. 5, 4, 3, 2, 1, cambia. Skip alto. 20 secondi. Usa le mani come riferimento. Le ginocchia salgono fino all'ombelico. 5, 4, 3, 2, 1, cambia. Saltellata laterale. Piccoli saltelli laterali. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Gambe divaricate e scendi con il bacino portando la mano al piede. Non sbilanciarti in avanti. Fuori l'aria quando scendi. 5, 4, 3, 2, 1, cambia. Spostamento laterale verso destra. Movimento preciso e controllato. Tieni le braccia in avanti per mantenere l'equilibrio. 5, 4, 3, 2, 1, cambia. Cambio lato. Ora verso sinistra. Fallo piano e spingi bene con la gamba destra per tornare in posizione. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Ora gambe divaricate e porta la mano al piede opposto. Ruota bene il corpo e controlla il movimento. 5, 4, 3, 2, 1, cambia. Affondo indietro. Alterna gamba destra e gamba sinistra. Non andare troppo veloce. Addominali sempre contratti. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Bacino verso il tallone. Divarica le gambe e scende prima da un lato poi dall'altro. Usa le mani per mantenere l'equilibrio. 5, 4, 3, 2, 1, cambia. Passo allungato dietro con la sinistra. Torna e calcia frontale con l'altra gamba. Tocca con la mano a terra quando fai l'allungamento. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato. Passo allungato dietro con la destra e calcio con la gamba opposta. Separa bene i due movimenti. Slancio deciso ma controllato. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Squat a fondo a destra, squat a fondo a sinistra. Controlla l'equilibrio, massima concentrazione. coordinazione, controllo e velocità. 5, 4, 3, 2, 1, ok. C'incortuzione i bracci in avanti. Recuperiamo un po' di energie. Respira. 5, 4, 3, 2, 1, cambia verso. Ora indietro. Crede ai cerchi ampi e fai il movimento lentamente. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Gambe divaricate e scendi fino al ginocchio. Lentamente. Preparati per i pugni veloci. 5, 4, 3, 2, 1, cambia. Posizione di mezzo squat e pugni veloci. Inizia piano per accelere il movimento. Gomiti stretti e pugni lineari ad altezzamento. 5, 4, 3, 2, 1, cambio giù in plank e tocco spalle alternato. Tieni un buon ritmo. 5, 4, 3, 2, 1, rimani in plank e simula la corsa. Mantieni il bacino basso e le braccia tese. Intensità sostenuta e costante. 5, 4, 3, 2, 1, in piedi. Braccia lungo i fianchi. Destra su e sinistra giù. Poi cambi e continui. Movimento lento. 5, 4, 3, 2, 1, cambia. Posizione di mezzo squat e pugni veloci. Inizia piano per accelere il movimento. Gomiti stretti e pugni lineari ad altezzamento. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, pausa. Prendi pesi. Usa un peso basso. La sessione è lunga. 5, 4, 3, 2, 1, riprendiamo. Mani lungo i fianchi e scendi oltre il ginocchio. Esecuzione lenta. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Rotazione tronco. Braccia chiuse davanti al petto e ruota il tronco. Movimento lento e controllato. 5, 4, 3, 2, 1, ora schiena dritta, braccia lungo i fianchi. Porta le spalle verso le orecchie, poi lasciale ricadere lentamente. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Braccia lungo i fianchi. Gomiti fermi e sali fino alla spalla. Atterna il braccio destro e sinistro. Non allargare i gomiti. Mantieni la schiena ferma e le braccia aderenti al corpo. 5, 4, 3, 2, 1, cambia. Ora sali lateralmente. Non salire oltre la linea delle spalle. Devi sentire lo sforzo sulla spalla. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Ok, braccia parallele a terra e gomiti a 90 gradi. Apri e chiudi. Quando apri, non andare oltre la linea delle spalle. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Ora circonduzione spalle indietro. Crea dei piccoli cerchi con le mani. Schiena dritta. 5, 4, 3, 2, 1, cambio verso. Ora fallo in avanti. Movimento lento e schiena dritta. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Mano lungo i fianchi e sali lateralmente. Non salire oltre la linea delle spalle. Cerca di sentire lavorare le spalle. 5, 4, 3, 2, 1, bicipiti. Ora fai tutto il movimento. Dal basso fino alla spalla. Schiena ferma e gomiti aderenti al corpo. Concentra lo sforzo solo sul bicipite. 5, 4, 3, 2, 1, pausa. Appongiamo un attimo i pesi e rilassa le braccia per qualche secondo. 5, 4, 3, 2, 1, riprendiamo. Molleggio a destra e a sinistra. I movimenti sono tre. Molleggio a destra, centro e molleggio a sinistra. 5, 4, 3, 2, 1, ora porta i pesi davanti al corpo. Piega i gomiti lateralmente e porta i pesi fino al petto. Schiena dritta e movimento lento. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Ancora molleggio a destra e sinistra con pesi. Guarda bene il video per copiare il movimento. Non scendere troppo con il bacino. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Gomiti fermi e porta il peso fino al gomito. alterna destra e sinistra. Schiena ferma e braccia aderenti al corpo. Non allargare i gomiti. 5, 4, 3, 2, 1, pausa. Recupera 20 secondi. Ancora un po' di pesi poi passiamo al lavoro sulle gambe. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Braccia parallele a terra e gomiti a 90 gradi. Apri e chiudi. Quando apri non andare oltre la linea delle spalle. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Molleggia. 3, 2, 1, cambia. Mano lungo i fianchi e sali lateralmente. Non salire oltre la linea delle spalle. Devi sentire lo sforzo sulla spalla. preparati per il molleggio. 5, 4, 3, 2, 1, via. Ancora molleggio. 3, 2, 1, cambio. Porti i pesi dal basso fino alla spalla. Schiena ferma e gomiti aderenti al corpo. Concentra lo sforzo solo sul bicipite. 5, 4, 3, 2, 1, ultimi molleggi. Vai, solo 10 secondi. 3, 2, 1, cambia. Schiena a 45 gradi. Manuvri in linea con il petto e distendi le braccia indietro. In distensione le braccia sono quasi parallele al pavimento. Il gomito è fermo e fa da perno al movimento. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Ora alleniamo un braccio alla volta. Braccio sinistro in linea con il corpo. Mano sul gomito e porta dietro il peso. Movimento lento e controllato. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. 3, 2, 1, stesso esercizio di prima ma con l'altro braccio. Schiena dritta e mantieni il braccio in posizione corretta. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. 3, 2, 1, ancora tricipite sinistro. Braccio sinistro in linea con il corpo. Mano sul gomito e porta dietro il peso. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Manca solo l'ultimo esercizio. 3, 2, 1, ora con l'altro braccio. Mano sinistra, gomito destro e porta il peso indietro. 5, 4, 3, 2, 1, pausa. Appoggia i pesi e prendi l'elastico. Scegli l'apertura più adatta a te. Noi abbiamo utilizzato buco 1, 4. 5, 4, 3, 2, 1, iniziamo. Slangio frontale con la punta del piede verso l'esterno. Gamba sinistra. Immagina di dare un calcio al pallone ma fai movimento senza scatti. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Slancio indietro, gamba sinistra. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. 3, 2, 1, ok. Ripeti il primo esercizio con la gamba destra. Slancio frontale e punta del piede verso l'esterno. Movimento controllato. 5, 4, 3, 2, 1, slancio indietro. Piega il corpo leggermente in avanti. Cerca di percepire la contrazione del gluteo. Altri 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. 3, 2, 1, vai. Slancio frontale. Piccole spinte sull'elastico. Niente scatti e movimento fluido. Ancora 10 secondi. 3, 2, 1, cambia. Ora apertura laterale. Fallo con la gamba destra. La tecnica è la stessa. Niente scatti e ripeti l'esercizio appena l'elastico perde tensione. 10 secondi e recuperiamo. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Recupera. 3, 2, 1, vai. Sdlancio frontale con la gamba sinistra. Spingi, torna e spingi ancora. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Cambia. Ora gamba sinistra e slancio laterale. Stessa tecnica. Apri, torna e apri. Movimento lento e controllato. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Ora passiamo alla spinta su mezzo squat. 3, 2, 1, via. Scendi in mezzo squat e apri lateralmente la gamba quando sali. Mantieni il controllo del movimento. 5, 4, 3, 2, 1, cambia. Ora con la sinistra. Ora con la sinistra. Mezzo squat e spinta laterale. Cerca di seguire l'intensità del video. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Ora ripetiamo l'esercizio. 3, 2, 1, via. Mezzo squat e spinta laterale. Sono 30 secondi. Cerca di mantenere un ritmo costante. Ancora 15 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Cambia gamba. Il movimento deve essere fluido. Fai un molleggio e un'apertura. Continua. Ultimi 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Ora ripetiamo tutta la sequenza. 3, 2, 1, vai. Gamba sinistra. Spinte frontali con la punta del piede verso l'esterno. Stesso movimento del calcio del pallone. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Slancio indietro. Gamba sinistra. Gamba sinistra. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. 3, 2, 1. Vai. Punta del piede verso l'esterno. Affina la tecnica. Movimenti controllati e l'intensità costante Ancora 10 secondi e cambiamo 5, 4, 3, 2, 1 Cambio Slancio indietro Piega il corpo leggermente in avanti Cerca di percepire la contrazione del gluteo Altri 10 secondi 5, 4, 3, 2, 1 Recupera, ci siamo quasi 3, 2, 1 Via, 30 secondi Slanci frontali lento con la gamba destra Non fa perdere tensione all'elastico Respira sempre durante l'esercizio 5, 4, 3, 2, 1 Cambia, apertura laterale Sempre gamba destra Cerca di seguire l'intensità e i movimenti a video Ancora 10 secondi 5, 4, 3, 2, 1 Recupera 5 esercizi rimasti Dai 3, 2, 1 Vai Slancio frontali in avanti lento Gamba sinistra Concentrati sull'esecuzione del movimento 10 secondi 10 secondi e passiamo all'apertura laterale 5, 4, 3, 2, 1 Cambia Sempre gamba sinistra Apertura laterale Muscolo sempre in tensione Se sei stanca Se sei stanca apri di meno ma continua il movimento 5, 4, 3, 2, 1 Recupera Solo 3 esercizi rimasti 3, 2, 1 Vai Posizione di mezzo squat Molleggia E tieni un buon ritmo Siamo alla fine Ancora 10 secondi 5, 4, 3, 2, 1 Cambia gamba Manca solo questo e un altro esercizio al termine dell'allenamento 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Recupera Ultimo esercizio E passiamo ad un brevissimo stretching 3, 2, 1 Ultimo Posizione di mezzo squat Apri e chiudi Cerca di aprire prima con una gamba Poi con un'altra Ultimo sforzo Mantieni il ritmo, non mollare Ultimi 15 secondi 5, 4, 3, 2, 1 Finito Togli l'elastico e recupera Ora vediamo l'effetto dell'elastico sull'equilibrio con lo stretching 5, 4, 3, 2, 1 Ok, stretching Prendi con la mano il piede destro e cerca di restare in equilibrio Se è impossibile appoggia la mano ad una superficie Rilassati e resta in posizione 5, 4, 3, 2, 1 Cambia gamba Prendi con la mano il piede sinistro Tieni la schiena dritta Tieni la schiena dritta Resta in posizione e rilassati 5, 4, 3, 2, 1 Ora piedi uniti e incrocia la gamba destra sulla sinistra Piegati in avanti fino a toccare terra con le mani Se non arrivi a terra tocca le caviglie 5, 4, 3, 2, 1 Cambio Incrocia la sinistra e scendi frontalmente Non sbilanciarti troppo in avanti Controlla la posizione Concentrati e respira 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10